Il Partito Democratico, spaccato in molte realtà italiane della Puglia, ritrova l'unità al ballottaggio e Barletta diventa un modello da seguire. Parola del senatore Nicola Latorre, presidente della Commissione Difesa di Palazzo Madama, intervenuto a sostegno del candidato sindaco Pasquale Cascella, ex portavoce del capo dello Stato Giorgio Napolitano. Il Partito Democratico ha combattuto in maniera compatta una battaglia che qui a Barletta è decisiva per il futuro di questa città, per il futuro della Puglia, per il futuro del mezzogiorno. Barletta è la città più importante del sud che è andata al voto e il successo di un grande meridionalista come Pasquale Cascella sarà decisivo non solo per il futuro di questa città e della Puglia, ma anche per far pesare il mezzogiorno nelle prossime scelte di governo. Come si sta organizzando il PD per i ballottaggi in Puglia? Ci stiamo battendo, naturalmente noi siamo molto concentrati in questo ballottaggio per le ragioni che ho spiegato e siamo impegnati in tutti gli altri comuni dove il risultato elettorale si è rivelato positivo, nel senso che in tanti comuni, dove talvolta si era andato al voto anche per crisi interne al centro-sinistra, il centro-sinistra ha saputo rinnovarsi, mettere in campo nuove energie e riproporsi come una coalizione di governo. Cascella che ha strizzato l'occhio ai socialisti, andati divisi al primo turno, al ballottaggio se la vedrà con il candidato sindaco del centro-destra Giovanni Alfarano, consigliere regionale del Popolo della Libertà.